Le discussioni tra padre e figlio, le loro perenni incomprensioni, i loro litigi, le loro differenze generazionali. Ogni giorno è così, ogni giorno è una battaglia da combattere, fino a quando una mattina Alberto Alassi Michele Pracido, professore d'italiano, decide di assegnare ai suoi alunni un tema dal titolo Genitori e figli, istruzioni per l'uso. E' questa l'occasione per Nina, un esordiente chiara Passatelli, di parlare per la prima volta a cuore aperto delle sue amiche, del suo primo amore, della sua prima serata in discoteca e della sua ingarbugliata famiglia e dei suoi genitori, Luisa e Gianni, interpretati da Luciana Littizzetto e Silvio Orlando. Un film dedicato da Giovanni Veronesi e i suoi genitori, prematuramente scomparsi all'età di 80 anni, un film divertente, leggero ma terribilmente profondo, che racchiude in sé l'essenza della famiglia Branco, quel nucleo piccolo piccolo, che lascia fuori il concetto di famiglia allargata. Ieri a Napoli il film è stato proiettato in anteprima al Mad Maxi Cinema di Fuorigrotta, dagli ospiti in sala oltre al produttore, Aurelio De Laurentiis, il candidato del Pdl alla presidenza della regione Campania, Stefano Caldoro. Grazie a tutti.